Ciao a tutti amici di Avora e Magazine, in questo video vi presentiamo un'applicazione molto interessante, stiamo parlando di codice risparmio e dell'applicazione edita dal sito codice risparmio.it, adesso andremo a vedere quella che è la prima schermata, come vedete è una nota molto importante da specificare, l'applicazione e come la società si presentano benissimo perché la prima schermata riporta tutte le informazioni della società, come contattarli, potete contattare via Skype, tramite telefono diretto, nessuna linea a pagamento, tramite mail e naturalmente il collegamento al sito internet, quindi questo già vi fa capire la serietà dell'azienda. Nel secondo tab troveremo tutte le categorie inerenti ai vari settori, quindi all'interno poi successivamente potremo trovare tutte le informazioni inerenti a codice risparmio o sconti, promozioni e tanto altro. Facciamo un esempio, andiamo nel settore che più ci interessa, informatica e telefonia, quindi qui potremo scorrere tra i vari rivenditori, troviamo quelli più plasonati oppure gli affiliati e verificati dallo staff di codice risparmio.it. Andiamo subito a vedere un negozio per andare a vedere che cosa è presente, abbiamo per tutte le schede una descrizione, l'appartenenza della categoria, la location e poi le differenti promozioni, codice sconto e tanto altro. Una volta trovata trovata questa scheda non dovremo fare altro, scegliere quello che più ci aggrada e tappare direttamente. Facendo così verremo ridirezionati direttamente al sito di riferimento della voce che abbiamo tappato e quindi potremo usufruire del codice sconto o della promozione. Come quindi la validità, molto importante anche perché uno può rendersi conto quando una promozione o un saldo è in corso o meno. Bene, un'ottima applicazione sicuramente da scaricate, soprattutto gratuita, non c'è nessun tipo di pubblicità fastidiosa e poi ci è piaciuto molto la serietà dell'azienda che ha inserito tutte le sue informazioni senza inserire mail strane, link strani, non c'è nessun tipo di attività strana su questa applicazione. Fornisce solo e unicamente codice sconto, coupon, vi indica delle promozioni o dei saldi. Quindi sicuramente un'app, ripetiamo, da scaricare. Per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti! Grazie a tutti!